Dopo la positività di Albano Carrisi al Covid-19, per fortuna senza gravi complicazioni, il nuovo anno si è aperto con una fantastica notizia per Loredana Le. La figlia della subrette pugliese, Brigitta Cazzato, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato. Proposta avvenuta in una location magica, il Wotamu Marine National Park in Kenya, e prontamente documentata sui su mamma Loredana ha subito lasciato dei cuoricini alla foto del romantico gesto e lo stesso hanno fatto Raffaella Lecciso e Jasmine Carrisi, rispettivamente zia e sorella di Brigitta. Quest'ultima è fidanzata da qualche tempo con un ragazzo di nome Yang. Il futuro sposo è assai riservato tanto che il suo profilo Instagram è privato e ha a l'appena 493 decisamente più social la figlia di Loredana Lecciso, oltre 10.000 follower su Instagram, dove Brigitta Cazzato posta principalmente foto dei suoi viaggi. La giovane ama molto vedere posti nuovi e di recente è stata sia in Asia, in India, sia in Africa, in Kenya, dove per l'appunto ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato. Brigitta Cazzato è la primogenita di Loredana Lecciso. È nata nei primi anni 90 dal matrimonio tra la subrette di Lecce e l'imprenditore televisivo Fabio Cazzato. I due si sono poi mollati ma hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene della loro. Proprio Brigitta ha avuto un ruolo fondamentale nella love story tra Albano e Loredana Lecciso. La Cazzato frequentava lo stesso istituto scolastico di Cristelle Romina Carrisi e qui Loredana ha conosciuto per la prima voce. All'epoca la Lecciso lavorava come giornalista per un emittente locale e ha approfittato della situazione per chiedere un'intervista a Leone di Cellino San Marco. Intervista che ha dato il via ad una delle relazioni più chiacchierate dello showbiz italiano. Brigitta Cazzato oggi vive a Milano ed è una delle migliori amiche di Cristelle Carrisi, tanto che è stata una delle damigelle d'onore al matrimonio della terzo genita di Albano e Romina. Ottimo anche il rapporto tra Brigitta e Jasmine Carrisi, la figlia che il cantante ha avuto da Loredana Lecciso insieme a Albano Junior, detto Bido. Grazie a tutti! Grazie a tutti!